cari amici buongiorno e ben ritrovati su questo nuovo video sono appena arrivato a casa dalla pescata che vedrete tra pochi secondi e mi sono reso conto che la mia dji action 2 che è la nuova telecamera non sapendola ancora utilizzare al massimo mi ha registrato tutta la giornata in super slow motion in 1080p quindi è tutto lentissimo e tutto senza audio quindi adesso avrete un video praticamente muto e con tanta musica e niente buona visione a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.